Finalmente a Tripalda conosce le due avversarie di Coppa Italia. La formazione bianco-verde è pronta a scendere in campo per la competizione tricolore regionale. Obiettivo raggiunto per gli Irpini che proveranno ad alzare la Coppa. Matarazzo e compagni affronteranno Cimitile e Vesuvio Plonti. Prima partita in trasferta a Cimitile il 23 aprile. Il 27 a Tripalda arriva Plonti, mentre tre giorni dopo la squadra osserverà un turno di riposo. Il 7 maggio sfida di ritorno contro Cimitile la palestra Damo in attesa di quella contro Plonti in trasferta all'11. Il 14 a Tripalda sarà nuovamente spettatore. La vincente formerà poi un altro girone da tre con la finale che verrà giocata in campo neutro. Intanto la squadra per non perdere il ritmo partita disputerà due incontri amichevoli. Il primo con la nette volley domani sera alle 20.30 a Tripalda, mentre venerdì invece sfida San Marco Cancello.